La vita è un dono meraviglioso, ma quando un nostro caro ci lascia, ci sentiamo sopraffatti da un senso di dolore e smarrimento. Il Giardino degli Angeli è la mano che ti sosterrà in questo difficile passaggio. Resteremo al tuo fianco per lasciarti vivere in pace i tuoi sentimenti e accompagnare il tuo caro nell'ultimo grande viaggio. Giardino degli Angeli, la serenità dell'ultimo saluto.